esiste un approccio per evitare tutto ciò o comunque per ridurre al minimo quello che può essere il diciamo le cause le conseguenze parola le conseguenze di un disastro tipo l'attacco di un ransomware e il giusto approccio è quello diciamo proposto dal cyber security framework del mist che è il mist il mist è il national institute of standard e technology dobbiamo dire però per prima cosa e non esiste un una pallottola d'argento una famosa pallottola d'argento non esiste un singolo software un singolo prodotto che permette di contrastare in modo assoluto questo tipo di di minaccia questo tipo di disastro ma bensì sarà una difesa a strati quindi dovremmo mettere in piedi più tecnologie più processi che ci permettano di di proteggerci nel modo più sicuro e assoluto da appunto la minaccia del ransomware o diciamo anticipato l'argomento cyber security framework del mist che vediamo in questa slide partendo dalle ore 12 vediamolo con un orologio partendo dalle ore 12 la prima fase del cyber security framework è quella del identify ovvero identificare quelli che sono i dati che dobbiamo proteggere come lo possiamo fare tramite tecnologie di data tagging quindi con delle etichette sapere data locali dove risiedono questi dati se ho un unico data center ok sarà nel mio data center della che ne so di vicenza di verona di di padova se ho più data center per ogni data center dovrò avere la giusta geolocalizzazione dei miei dati o tramite categoria categorie di tipo business view quindi andando a catalogare i miei servizi i miei server sotto forma proprio di servizio di erogazione di servizio per il business una volta che ho identificato tutti i miei dati li debbo li debbo proteggere quindi ti devo decappare devo seguire quella che è la regola del 3 2 1 abbiamo poi meglio evidenziare dovremmo utilizzare dei backup che risiedono su storage immutabile anche qui andremo poi ad evidenziare questo questo argomento dovremmo utilizzare delle tecnologie di test dei backup di integrità dei backup quali ad esempio su backup su replica per quello che riguarda vim perché perché devo essere sicuro che i dati contenuti nel mio backup siano consistenti la terza fase è quella del determinare se sto subendo un attacco se ho una problematica di tipo cyber come utilizzando degli strumenti di monitoraggio e allarmistica andando a sfruttare tutte quelle ad esempio con i prodotti vim andando a utilizzare le data integration api delle api specifiche appunto per anche poter determinare se abbiamo subito del degli attacchi o delle situazioni e poi la risposta quarto punto rispondere nel momento in cui abbiamo evidenza di essere stati oggetto di attacco dobbiamo rispondere e la risposta la facciamo con un'orchestrazione della ripartenza ecco che esistono degli strumenti anche in vim che ci permettono proprio di aver organizzato tutta una serie di di step che diciamo mi mi sono utili nel momento in cui devo ripartire verificare anche quelli che sono gli sla ovvero andare a verificare quelli che sono i valori di rpo rpo e ci siamo preposti perché è inutile dire al board ripartiamo in otto ore ripartiamo in 24 ore quando si subisce un attacco ransomware è molto improbabile che si possa ripartire così velocemente se non ho fatto un test precedente e poi avere quella che si chiama documentazione aggiornata quella dynamic documentation documentazione aggiornata è inutile avere un piano di disaster recovery se poi non lo aggiorno se cambiano alcuni sistemi se aggiungo un server alla mia applicazione al mio gestionale e quel server non è stato aggiunto nella documentazione di disaster recovery la mia documentazione non è più valida nel momento in cui dovessi subire un disastro una problematica del genere e faccio intervenire magari un team della cyber insurance o faccio intervenire nt se la documentazione non è stata aggiornata capite bene che ci possono essere dei problemi e infine l'ultima fase quella della ripartenza del recovery ecco che anche qui dobbiamo e abbiamo la possibilità con bim ad esempio di utilizzare degli strumenti che ci permettono una ripartenza veloce anche dai backup tramite ad esempio distant recovery possiamo utilizzare se dobbiamo ripristinare solo alcuni database magari o alcune parti di file system possiamo utilizzare l'item level recovery o poi andare anche analizzare se all'interno dei nostri backup non ci sia ancora la minaccia quindi il malware utilizzando ad esempio secure restore che ci permette di fare una scansione un'analisi del contenuto del backup per evidenziare se ad esempio dentro c'è ancora la minaccia residente